Ripristinare e accrescere la difesa idraulica di due corsi d'acqua. Con questi obiettivi sono stati finanziati per 1.100.000 euro due rilevanti interventi a Tolentino, sul fiume Chienti, e a Senigallia, sul fiume Misa. I lavori sono stati individuati lo scorso marzo e le procedure propedeutiche, quali la conferenza dei servizi con gli enti locali e i soggetti interessati all'attuazione degli interventi per verificare se i progetti preliminari predisposti fossero in processo dei requisiti di ammissione richiesti, si sono già svolte ed è stato quindi riscontrato che gli interventi rientrano all'interno e in prossimità di aree classificate ad alto rischio idrogeologico, secondo il piano di assetto idrogeologico della Regione Marche. L'azione di recupero avviene con risorse inserite nel programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, attiva dall'inizio dell'anno e tuttora in corso, ha commentato l'assessore alla difesa del territorio e dalle politiche comunitarie Paola Giorgi. L'intervento di Tolentino, che sarà finanziato con 240.000 euro, consentirà di ripristinare la funzionalità di una specifica opera di difesa idraulica, una difesa spondale in corrispondenza del depuratore comunale, compromessa dalle piene del fiume Chienti che si sono succedute in questi anni ed in particolare quella del novembre scorso, che ha eroso e quindi resi vani i diversi interventi già realizzati precedentemente. Gli uffici preposti, sia della Regione Marche che del Comune di Tolentino, hanno effettuato diversi sopralluoghi e dopo un'analisi attenta e accurata sugli interventi di realizzare, è stato dato parere favorevole ai lavori di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di difesa spondale esistenti a salvaguardia del depuratore intercomunale. I lavori che consentiranno di mettere in sicurezza una porzione del fiume inizieranno in tempi rapidi, ha dichiarato il Sindaco della città.